Buonasera a tutti, sono il dottor Edoardo Giacovazzo, sono il referente per il giornale di Puglia, sono qui di nuovo per parlare della situazione attuale e un po' per tenervi aggiornati. Iniziamo col fatto che si sta avvicinando Pasqua e Pasquetta, abbiamo fatto tanti sacrifici e direi che la cosa più importante è mantenere questo sacrificio per almeno due settimane, quindi dieci giorni, quei giorni che sia, cerchiamo di tenere duro e non arriviamo a Pasqua e Pasquetta che usciamo tutti e perché sennò tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso verrà vanificato. Tra l'altro vi avviso che comunque forze dell'ordine intensificheranno i controlli proprio in prossimità di Pasqua e Pasquetta, quindi evitate le uscite di casa soprattutto in questo periodo e visto che fortunatamente l'altro punto che volevo toccare, stiamo in calo nel senso che la situazione non incrementa più di tanto, è la fase di stallo, si stanno avendo in molti meno casi, insomma la situazione fortunatamente si sta contenendo, però non ci possiamo cullare di un vantaggio, di una vittoria che abbiamo avuto fino adesso perché non sottotutiamo il virus in quanto proprio poc'anzi diciamo anche nell'ospedale di Castellanita ci sono state le problematiche, tant'è vero che ci sono stati anche dei casi di operatori che hanno contratto il virus. Poi ricordiamo che l'ultima notizia che hanno dato è che anche 5 dottori sono deceduti proprio a causa del coronavirus, quindi va bene, stiamo migliorando, la situazione si sta contenendo, tutto migliore, però non culliamoci di questo miglioramento perché vedo ancora tante persone che si accavallano al suo mercato, una marea, dico io ma perché è andata a fare la spesa tutti i giorni? Cioè io la cosa che non percepisco dei pazienti è che vanno tutti i giorni a fare la spesa. Io capisco che può essere un momento di relax, di uscita, ma andateci una volta a settimana. Io stesso faccio una spesa una volta a settimana. Che cosa vi costa fare una volta a settimana? No, bisogna andare ogni giorno a prendere il lievito, il pane tutti i giorni. Allora se deve essere una scusa, non trovate la scusa. Purtroppo dobbiamo resistere ancora perché abbiamo dato un'ottima dimostrazione di farcela e continuiamo così. Altro argomento importante con cui volevo trattare è questo. I vaccini, i farmaci che curano, migliorano i sintomi, non hanno senso. Non li prendete prima. Alcuni farmaci che erano stati riconosciuti come ottimi in fase preventiva, non fate prevenzione nel senso che si prendono prima dei sintomi. Non ha senso. Allora se ci sono dei sintomi reali, conclamati da Covid-19, si va in pronto soccorso e poi successivamente sarà il medico a decidere cosa darvi. Speriamo che non avete nulla. Fatto sta di non fare autoterapia. L'autoterapia non la dovete mai fare. Che vi prendete un anti-influenzale, un antivirale o un anti-infiammatorio, tra virgolette, per prevenire un eventuale contagio. Non ha senso. Non prendete niente. Tra l'altro i sintomi per quanto riguarda l'infezione da coronavirus sono quelli. Quindi se non avete complicanze respiratorie, febbre, annessa, eccetera, eccetera, è inutile né prendere medicinali ipotetici, che possono comunque migliorare la condizione da infezione a coronavirus, non allarmatevi eccessivamente e soprattutto statevene a casa. È ormai una parola che è entrata nella nostra cultura il dire restate a casa. Però ragazzi è l'altra dei fatti che tanti sforzi che abbiamo fatto fino adesso, che ho fatto anch'io, a lavorare tutti i giorni in condizioni, vi posso assicurare, pessime, situazioni in cui anche io stesso potevo essere contagiato e tuttora posso essere contagiato. Quindi nonostante tutto sto lavorando e sto tornando a casa la sera da solo. Non vedo la mia famiglia, non vedo i miei parenti, non vedo i miei amici da ormai più di un mese. Quindi come lo sto facendo io, dobbiamo farlo tutti, proprio perché prima usciamo da questa situazione, meglio è. Guardate un po' la situazione della Cina che è rientrata di nuovo in lockdown. Guardiamo la situazione della Spagna, guardiamo la situazione dell'Inghilterra. L'Italia comunque sta dando dimostrazione che comunque è una nazione unita, forte, è una popolazione straordinaria. E così tale dobbiamo continuare a esserlo tutti quanti insieme. Quindi Pasqua e Pasquetta a casa. Pasqua e Pasquetta a casa, fate le videochiamate, cucinate, sentite le persone, è l'unica soluzione che possiamo fare. Tornando al discorso mascherine che molti mi scrivono, voglio essere chiaro, la mascherina, ormai la cosa più importante è avere una mascherina come anche quella che ho io, anche se ho anche FFP2 e FFP3, però io non le sto più usando sinceramente, soltanto in casi particolari in cui ci sono situazioni di contatto più ravvicinato. Però fatto sta che la mascherina serve al fine dello starnuto, della tosse, per evitare che ci possa essere un eventuale scambio più ravvicinato tramite tosse e starnuto, eccetera. Però la mascherina sia un fatto ormai di educazione, che comunque preserva le tosse o starnuto, preserva l'altra persona e viceversa, ed è una forma anche di, diciamo, uso adesso, perché comunque sia, se tutti ce l'abbiamo, è più difficile che uno starnuto a una tosse sia, diciamo, un'un possibile fonte di contagio. Detto questo, la mascherina FFP2 e FFP3 serve soltanto agli operatori sanitari, che in alcune situazioni, massimo per 7-8 ore, insomma, quello è lo standard di protezione, dopo di 7-8 ore, ragazzi, quella mascherina FFP2 e FFP3 deve essere buttata. Quindi questa cosa deve essere chiara, anche questa, noi possiamo utilizzarla per anni. C'è una carenza di mascherine, non è colpa delle farmacie, non è colpa dello Stato, è colpa che comunque il mercato è impazzito, le nazioni che producevano hanno chiuso le frontiere, le usano per loro, e infatti anche noi come Stato ci stiamo adoperando nella produzione di mascherine. E vi posso garantire che abbiamo già donato circa totti di mascherine ai vari comuni, gireranno ancora altre forme di solidarietà nei confronti sia dei pazienti, che degli ospedali, che dei comuni. Quindi io continuerò a dire di resistere, resistere, resistere ancora, e mi raccomando, Pasqua e Pasquetta, quest'anno fatevela a casa, anche perché i controlli saranno molto, molto forti. Io vi sconsiglio di andare al mare, purtroppo ragazzi, quest'anno a casa, perché rischiate veramente sia di pagare la multa che comunque di passare anche una brutta Pasquetta e Pasqua. Statevela a casa, rilassatevi come sto facendo io. Questi erano i punti che vogliono toccare oggi, in maniera molto flash. Io vi saluto, vi torno a lavorare, insomma ci sentiamo alla prossima, al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.